L'Europa non andava in quella direzione dopo la seconda guerra mondiale, ma ora ci vanno di nuovo. A noi tutti piace. Quando accade per davvero diciamo, ah, siamo scioccati, siamo scioccati. Senza guerra molte persone non possono sopravvivere. Se questo e questo non risolvono i propri problemi, i problemi del mondo non se ne vanno mai. Quello che considero un messaggio simbolico, che è uno dei suoli più fertili, forse il suolo più fertile sulla terra, ora è in un paese in guerra, in Ucraina. Cosa possiamo dire in proposito? Dalle mie informazioni, il suolo estremamente fertile in Ucraina è fino a 4 metri di suolo nero, il suolo più fertile sulla terra. Quindi, cosa facciamo? Vedi, il fatto è questo. Quando delle nazioni in tutto il mondo, quasi senza eccezioni, fortunatamente l'Europa non andava in quella direzione dopo la seconda guerra mondiale, ma ora di nuovo ci stanno andando. Quasi ogni nazione nel mondo ha investito un'enorme quantità di denaro nel costruire e accumulare armi, armamenti, bombe, missili, bombe intelligenti. Non so come una bomba possa essere intelligente. È la cosa più stupida da fare. È la cosa più stupida da fare. Almeno se mi metto a lottare con te, con una spada, un bastone o qualcosa, c'è un certo piacere grezzo e animalesco collegato. Mille persone sono sedute qui. Semplicemente sgancio una bomba, sono tutti morti. Non so cosa ci sia di intelligente in questo. Non lo posso capire. Ma parlano di bombe intelligenti. Dicono che da 3 km nel cielo possono sganciare la bomba in casa tua attraverso la finestra. E sono molto fieri. Questa è non una sola nazione di tutto il mondo, ok? Quindi tutti noi come persone pensavamo che tutte queste bombe fossero per divertimento, per dimostrazione o un'opera d'arte. Cosa pensavi? Un giorno saranno usate. Sì o no? Devono essere usate da qualche parte. La domanda è su chi. La domanda non è se verranno usate o no. La domanda è solo dove e su chi. Non è così. Quindi mentre si accumula, ci va bene. In ogni film. Non c'è film senza una bomba o almeno una faccia distrutta. A noi tutti piace. Quando succede per davvero diciamo ah, siamo scioccati, siamo scioccati. Non funziona così la vita. È per questo che vi parlo del suolo. Sarà in lutto dopo il disastro o sarai la generazione che invertirà il corso del disastro? Abbiamo solo questa scelta perché questo è il nostro tempo sul pianeta. Come facciamo la nostra vita? È la nostra vita. Non è così? Le guerre sono quasi inevitabili perché le economie sono costruite sulla guerra. Senza guerra tante persone non possono sopravvivere. La più grande industria sul pianeta sono armi e armamenti. Come non li userai? Se faccio pistole e pallottole e te li vendo e tu non spari una singola pallottola sono deluso da te. Ci siete? È accaduto questo. Ero al Foro Economico Mondiale. Al tempo questa guerra in Sudan era in corso, sai. Una guerra terribile. Oltre 260.000 persone sono morte di cui il 50% erano bambini sotto i 6 anni di età. Puoi fare di più? 130.000 bambini morti in una guerra. Quindi in quel momento star del cinema e altri vanno lì portano sai un bambino africano è sempre un trofeo. Porti questo bambino e fai le foto. Tutto questo accade. E mostravano un video in cui tutte queste milizie o soldati o come vuoi chiamarli vanno semplicemente in giro in questi pick-up sparando al cielo. Ok? Ho detto vedi questi tipi se io combatto con te almeno devo spararti. Se sparo al cielo significa che ho abbondanti riserve di pallotto. Non è così? Abbondanti riserve. Altrimenti non sparerei alle nuvole. Se combatto una guerra quando sparo voglio che qualcuno muoia. Sì o no? Ci siete? non sparerò al cielo ma loro sparano al cielo con armi automatiche continuamente. Ho detto vedi qualcuno le rifornisce alla grande giusto? Altrimenti nessuno sparerebbe al cielo. Ho detto ci sono 62 industrie al mondo che producono quel calibro di pallottole. Ti darò gli indirizzi. Andrai a chiuderle? No. Andrai nella zona di guerra prendrai un bambino e farei un melodramma. Tutto ciò che devi fare è se togli le pallottole una volta che sono esaurite forse si faranno a pezzi ma non puoi ucciderne così tanti facendoli a pezzi almeno. Se non puoi trasformare l'essere umano almeno devi togliergli le zanne non è così? Togliere le zanne? Sì. Significa che almeno gli togli i denti. Se la trasformazione è possibile è fantastico. Se non è possibile almeno la sua potenza dovresti diminuirla non è così? Non abbiamo nessuna intenzione di porre fine alla guerra siamo chiari in proposito quando accade a noi o quando accade vicino a noi piangeremo quando accade altrove è un melodramma. Questo atteggiamento inumano verso la guerra l'uccidere e la sofferenza che altre persone attraversano dobbiamo uscirne perché la maggior parte delle cose malvagie sono accadute non necessariamente per intenzioni malvagie semplicemente per apatia. attraversi la vita dormendo. Dormire è un crimine? Ci siete? Dormire è un crimine? No. Dormire è una cosa buona. Ma se attraversi la vita dormendo la tua vita è un disastro. Questo è ciò che sta accadendo al mondo sia in termini di suolo che di guerra. Questo è ciò che sta accadendo. Stiamo dormendo. Dopo la seconda guerra mondiale abbiamo formato la società delle nazioni. Abbiamo fatto le Nazioni Unite. l'idea era che mai più accadessero guerre simili. Giusto? Non solo per l'Europa ma il mondo intero che mai più accadesse. Ma da allora quante guerre? in realtà se osservi non c'è stato un solo giorno di pausa su questo pianeta dopo la seconda guerra mondiale senza almeno uno scontro in corso da qualche parte. Abbiamo dei problemi. Abbiamo problemi economici abbiamo problemi di proprietà abbiamo dei problemi va bene? Questa era l'idea di formare le Nazioni Unite che combatteremo con le nostre parole risolveremo i nostri problemi. non siamo in un paese della cuccagna tale che non abbiamo nessun problema. Abbiamo problemi e come? Davvero abbiamo dei problemi non è così? Che due gruppi di persone credono sia così sia cosà ma questa è l'idea di creare una piattaforma che risolvesse i problemi. Cos'è accaduto? L'abbiamo spinta da parte e ci facciamo ciò che vogliamo. Il ventunesimo secolo quando è iniziato tutti dicevano questo è il ventunesimo secolo l'era dell'informazione della tecnologia questo è quello niente guerre. Dimmi quante guerre nel ventunesimo secolo? Quante nazioni sono state distrutte nel ventunesimo secolo? Molte. Troppe troppe per ventodue anni non è così? Quindi come ci svegliamo? Vedi queste sono cose che non puoi ribaltare nottetempo ma la prima cosa è nel tuo cuore la tua rabbia e il tuo odio devono andarsene. Devo raccontarti questo. Ero solito partecipare a molte conferenze sulla pace un tempo. Per circa due anni due anni e mezzo ho partecipato a tante conferenze internazionali. Poi ho visto che per tantissime persone questo saltare da una conferenza all'altra è una professione e si guadagnano da vivere così. Io sono l'unico idiota seduto là pensando che stiamo lavorando per la pace nel mondo. Ero in una conferenza molto importante 42 eminenti premi Nobel partecipavano e alcuni ex capi di Stato e così via. perché quando sono capi di Stato faranno la guerra dopo che vanno in pensione parleranno di pace. È stato così che va il mondo. Quindi ero lì ed era il terzo giorno il pomeriggio un certo premio Nobel è il suo turno di parlare dopo parlo io è salito e non c'è il pulpito è un po' esposto un vero e proprio grande pulpito di legno è salito e si è messo lì dietro ha aperto il suo discorso guardato in giù e non ha più alzato la testa ha letto 42 pagine io stavo seduto in prima fila cercando di cogliere ogni parola guardo ogni pagina ha girato 42 pagine poi mi guardo intorno la sala la sala è totalmente pacifica perché tutti eccetto la sicurezza e un po' di personale che stava in piedi tutti si erano addormentati allora ho pensato questa è pace nel mondo di sicuro poi il mio turno di parlare è arrivato e ho detto vedete negli ultimi tre giorni ho sentito così tanti discorsi magniloquenti sulla creazione della pace nel mondo ma vi chiedo sinceramente quanti di voi possono mettersi la mano sul cuore e dire che la vostra mente è pacifica perché se la tua mente non è pacifica se non puoi rendere la tua mente pacifica rendere il dannato mondo pacifico è fuori questione perché ciò che vedi nel mondo è una manifestazione più ampia di ciò che succede nella mente umana non è così? se non ci sono esseri umani su questo pianeta il mondo è pacifico non è così? poi ho chiesto perché nella sessione del pomeriggio si erano tutti addormentati uniformemente c'era una certa unità a riguardo eccetto me e questo lettore non è un oratore un lettore tutti si erano addormentati allora ho chiesto cos'è accaduto? hanno detto no Sadhguru ieri sera c'era un Bacardi Festival oh levande gratis così sono diventati tutti pacifici quella è stata l'ultima conferenza sulla pace nel mondo a cui sono andato allora esprimiamo il desiderio di rendere le nostre menti pacifiche globalmente e penso che anche tutti i governi no e questo è il punto non possiamo rendere pacifica la mente di tutti puoi rendere la tua pacifica posso rendere la mia pacifica lei può rendere la sua pacifica questo è l'unico modo in cui funziona questo è il problema parliamo di un mondo parliamo di una società parliamo di un'umanità no questo è solo vocabolario ci sono solo esseri umani se questo e questo non risolvono i propri problemi i problemi del mondo non se ne vanno mai si manifesteranno in così tanti modi grazie a tutti 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 Grazie a tutti.